Credo che sia una risposta che va nel solco del lavoro che stiamo facendo, che è la CISL in primis e poi con le altre organizzazioni abbiamo messo in campo. Avere riconquistato con forza che il tema della contrattazione è il tema dell'autonomia delle parti. Per cui è stato un piacere sentire il Presidente di Confindustria che lo abbia rivendicato dentro una CISL così importante come quella di oggi della Solombarda, ma altrettanto anche la risposta del Governo che ha riconosciuto il ruolo delle parti, un ruolo che probabilmente in questi mesi, in questi anni difficili ci siamo conquistati giorno per giorno e che adesso dobbiamo al meglio cercare di esercitare. La contrattazione era e rimarrà delle parti.